Ho degli amici, ma ho un tesoro, quindi? Quindi sei povero, eh? Non vuol dire che non hai ricciuto. Esatto. Sono povero, quindi come funziona qua? Io adesso mi sistemo... Che è successo, Marco? Perché hai soffiato sul microfono? Che mi sei potuto vedere? Ma l'ho coperto. L'ho coperto. Hai coperto cos? Ho coperto la capocchia per fare sul gambo. Trovo un tesoro comunque. Tu sei un tesoro. Tu sei un tesoro. Grazie, grazie, è molto gentile. Non dicevo a te, chi lo vuoi? Grazie, grazie. Ormai l'hai detto, la prima parola è quella che tu... È vero. È come ai quiz della televisione con Nespre. È la fine, quindi, basta. Maurizio Francesco 2. La doppia. Grazie mille. Ah, che grazie. Ah, sono ritornati suoni vecchi, Franco. Grazie, bello. Eh, sì. Oh, hai dovuto fare una nominata con Dio, eh. Non era Maurizio Costanzo, ma... Come si chiama quello che si risponde da solo? Eh, quello, eh, quello è Marzullo. Cesare, grazie mille. Marzullo. Cesar, adesso ti accetto. Dammi quei 6-7 minuti. I think Steve, 6-7 minuti. Grazie, Cesare, grazie I think Steve. Grazie, belli. Grazie, Cesare. Aspetto, allora, aspetta. Facciamo un test, eh. Facciamo un test. Ma sì, non l'abbiamo messo a posto ieri. No, no, no. Adesso voglio vedere se funziona. Bravo. Bravo, bot. Che schiettume. Anzi, guarda un po' lo rimuovo. Io ancora la caudi di Natale comunque, devo cambiarlo. Anche io, Marco. Ma no, siete dei bastardi. L'hai scritto Luke stamattina. Ho capito, ci ho scordato. Non avevo... Non mi ricordo lo scandalo. Non mi ricordo dove era una chiave. Eh, tranquillo, anche tu devi siedi dimenticato comunque Morelli. Quindi non devi rompermi le scatole. Ho capito, ma io mi sono dimenticato. A parte che ci vuole veramente mezzo secondo per cambiarlo. Non so. E fallo. Io non lo faccio ora. Ma perché no? Troppo tardi ormai. Sei andata lì, c'era ancora una roba di Natale. Io lo devi far farlo. Quanto è che mi chiamano il 50 mercoledì a Natale? C'era una roba del genere con te che erano. Non mi ricordo. Faccio un giorno a Natale. Grazie Ricky. Grazie Ricky Gervais. No, Ricky è assoluto. Oh, me. Ah no, pensavo. Difendiamo con lesione oggi. Beh, Sior, drammatico non gliel'avrei dato sinceramente a Black Panther. Ma proprio no. Vai, Jok. Jok. Grazie. Grazie, bello. Mi piacevano di più i suoi di Natale. Non giovi a lei, c'è il mic. Marco, ti dico subito, quante settimane mancano a Natale? Mancano cinquante settimane. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Molto gentile. Ti contento, Marco. Quindi mettiamo, lasciamo la grafica fino all'anno prossimo. Sì, sì. Grazie, medici. No, che poi si va a perdere lo spirito natalizzo. No, adesso siamo giù la grafica di Pasqua. Adesso dobbiamo mettere la grafica di Pasqua adesso. Mettiamo delle uova. Quelle normali, però. Cioè, non le uova di Pasqua. Sì, le uova della gallina. Sì, le uova della gallina. Marroni. Con i piedi di merda prima, ragazzi. Sì, quanto un po' di cacca e panni. Con i peleri di per sedere. Vabbè. Qualche piume attaccata così. Ah, mi dispiace ancora peggio allora. Sì, guarda. Non è vero, in realtà ne han parlato tutti bene. Anche se a me fa caccare. Però a me fa caccare per principio. Ma anche mi fa schifo tutto ormai. Per principio. No, mi fa schifo tutto quello che riguarda i Queen. Ma è deficiente. No, no. Non ti preoccupare. No, no, ti assicuro di no. Ti assicuro? Sì, sì. Oh, no. Sì, sì. Io sono stufo. Della vita? No, che questa Rainbow mi va una volta bene, una volta no. Una volta bene... E qui to Marco, è... Non so di cosa dire. Il computer del pacco, tutti qua. Guarda. Guarda, te lo devo comprare nuovo. Guarda. Guardo. Ma io ho un camorelli, ma la stima a te piuttosto. Un po' la Fibra Marco. Fulvux, grazie mille Fulvux. Grazie Fulvux. Sei stato individuato. Ah. Tanto ricordate che stasera è un fettino che ritorno a lunedì. Che torna a moto regolare. Io non vedo l'ora. E domani FIFA ritorna, finalmente. È un mese che non lo faccio. Non si rompe questa... Non lo faccio anch'io. Niente, non riesco a rompere il drone, ragazzi. Mi lagga troppo. Posto, posto. Eh, dov'è? Ah, sono in fondo, qui qua. Qualcuno è stato avvelenato con Guglielmo Scilla. Quindi sono... Di là. Palle ho. Guarda te. Buongiorno, Pier. Ciao, Pier. Ah! Non hai sparato, eh? L'ho ucciso. Di qua dove sono io ce ne sono un paio, mi sa. Ostia, che botta. Dov'è, Morelli? Sono in due nel garage. Il garage? Aspetta. Sì. Qua, gli tre. Uno è entrato senza prendere le spinge, come affatto? Scusa. Ah, qui c'è il buco, aspetta. Sono in due? Che brutto posto. Chi è che è il vangiria qua? Battoide. Ma che ti sei dal posto, come ti sei dal telecamera? Sei dal posto? Ma stai zitto e guarda lì. La rossa. Stavo tra il giro per... Non ho chiarato le telecamere. Eh beh, a sto punto c'è un buco nel muro. Che problema, amici? Eh Marco, devi non spostarci qua. E' un diluato. Perché sono solo due, sono nel... No, sono più di due. Dai, l'avevo visto! E' dietro l'ambulanza, l'inforzo. Eh no, non può dire, mi ha fatto via, ovvio. E' a me tanto dovevano entrare loro, quindi... Ma eravamo tutti in merda poi, scusa. Ragazzi, non scrivete cose a caso che... Mi incazzo, eh? Mi incazzo. Guarda che! Guarda che! Poi se incazza Marco è la fine. Guarda. Sono veramente stufato di questa cosa, io. A parte che deve essere sempre... Un gioco Ubisoft, lo ho detto. Lo vedo, lo vedo, Valkyria! La fatela entrare, facela. No, ma la poteva uccidere veramente easy, Valkyria. Che è stufida. La colpita. Vabbè. Lo rispetto, eh. Lo rispetto, però. Te l'ha spottata. Ma lo potrebbe uccidere lei, e chi non sta facendo niente, va in giro. Sto mirando alle sue telecamere. Cioè, le spalle di uno è in testa. Il problema di uno è che dava problemi. Perché è un Giacobis. Ah! Non puoi dirlo, Marco. Non lo dico, non lo dico. Figurati. E non ho capito cosa sta facendo Valkyria, ti giuro. Non sto capendo, non riesco a sentire cosa sta facendo. Ho visto. Dai, Valkyria, dai! Un'uccisione. Attenti perché sono in due, eh, di ancora. Putt'a tonno. 990. Non tonno, quello di tonnato. Lì, sparalo! Eh, adesso non stai niente. Arrivano dalle scale. Non muoiono mai quelle di esplorzare. Beitalo, beitalo. Bravissimo. Non ne ha la mira! La mira, la mira! Sì, ha il mito, sì, ha poi amicato. Vabbè, ci sono quattro persone, la mira è andata a tre persone, aspetta. Tre persone. La mira poi è andata alla quarta. Questa qui era veramente al buco di culo tra voi due, un sasso cartaformi, se è incredibile. Ma Valkyria, poiché di quattroia, ce la vado avanti per mezz'ora! Oh! Infatti è morto. Eh! Vota peccato. Vota peccato. Eh! Tu sei bravissima, Goggia. Esprit mi diceva che questa notte ha sognato che faceva scivolare le sue mani intorno ai suoi mani. Esatto! Mi avete rotto la battuta! Non sapete essere comici! Non sapete? È una battuta bellissima! Me l'avete rotta facendo... E curati, esprit tu! Eh no, vabbè, lo so io vi ho detto a me. Non piccazzo, vai dal dottore a farti impiantare una gola nuova, drogato di merda. Mettiti un foulard di seta, con cortesia. Ma c'entra. Eh, prendi freddo, ti viene il cagotto alla gola. Sempre la sciarpa io, sempre. Eh, la sciarpa di merda. Come? Eh, sì. Un broccolone di chiacchia intorno alla gola. È schifo, ascoltano. Eh, di più. Un foulard di testa, sì, sì. Ma questa è la saliva che stava uccitendo. Sotto. Ma io l'ho sentiti qua sopra. Ah, sono sotto? Eh! L'ho sentiti sopra, vado sopra e l'ho sentiti sotto. Eh, che cacchio. Effettivamente, la sciarpa di merda è tenere caldo. Ancora 5 secondi. Prenditi una sciarpa di carne. C'è... Di carne... Di carne umana, proprio. Carne sicca. Oh, questo è che cacchio è successo? Io scendo giù. Ciao. Oh, che bello è il tunnel, è una fregatura. Sperai che facciamo piano piano. Prega quello dieti, prego. Non infila, non infila. Ma quello è la 2, 1. Tira un drone. Lo spotto. Tutti sotto sono io, io non ballo sotto. Uno è qua. Non l'ho buttato. Adesso è qua dietro. Faccio una cosa per voi. Adesso è qua. Aspetta che c'è... Adesso è qua. Ok, è andato via. Però occhio che sarà dietro qualche... Sarà dietro la schivania? Non è dietro la schivania. Qua non c'è nessuno, Moro. Sta faceva lì? Sarà dentro qualche porta. Eh, ma c'è il drone di Echo però. Oh, tutti quei droni siete? Oh! Eh, così si gioca. Non so se te... Eri in fondo, dietro lì. Qua è il drone di Echo? Ma l'uno è sopra, eh? Mi arriva dal del culo. Non lo trovo io. Ah, eccolo. L'ho rotto. Mi hanno sparato. Via! Chi è questo? Sempre sto scemo. Arme del cazzo. Ma l'ho prevellato. Niente? È ancora sopra l'altro comunque. Comunque grazie a Steph per i due mesi. Mentre in torno. Grazie Steph. Ma l'ho mangiato abbastanza. Ma Steph Curry? No, Steph no. Ho rotto anche l'altro drone di Echo. Eh, è anche un po' di culo qua. Dovete fare qualcosa. Potete fare un buco qua, vorremmo? O marco. Fatemi fare dei buchi. Occhio qua, occhio qua. Sì, perché arriva l'altro, eh? Da lì, da destra. E questo si mette... Oh, io lo sto per uccidere. Guarda lì, guardate. Guarda a destra, morelli. Io lo sto per uccidere. Guarda qua, c'è sicuro lui che arriva adesso. Ma è chiusa la porta qui. Eh, perché è sopra l'altro, in due uffici. Mi potete arrivare da un momento all'altro. Moro, vai via di lì. Vai lì. Vai. Ma la mira di questo fucile non è... Vai, Marco. Oh, ma io questo qui lo odio. Lo odio, questo qui. Scusa, non c'era più. Eh, vedi. Ho ucciso. Vale, sbarri in mezzo. Grazie mille, Gibo. Grazie mille, Gibo. Sbarri in mezzo con un pastiglio, guarda. Che metà fuoco in arriva, no? Eh, il fucile di... No, look. Di coso è veramente terribile. Cazzo, maestro. E poi li hai preso, po' dei due. Li faccio il possibile o dei meglio, forse? Eh, sì. Guarda, f***, è terribile. Eh, niente. Cazzo. E niente, li hai perso. Ah, un quarto di vita. Guarda, quello che gioca con noi è peggio di noi, però. No, ma mi ha dato veramente fastidio tutto il tempo, eh. Ho dovuto combattere anche con lui. Mi stavano per uccidere perché si era messo di mezzo. Non potevo tornare indietro. Ma Rainbow Six, non ti ho detto, ma niente, non me lo concedo una cosa. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie. Allora. Va bene, Giorgia, entra. Pella prossima. Dai, vada. Ho iniziato a infilarti dentro, Giorgia. Io prendo... Sì, che ci vogliono con le due tre ore, più o meno, per aprire Rainbow Six. Oh, same, how funny, whonsome... Non so, se ce l'ho su... Do you play? Ho avuto Morelli. In caso lo invito io, dovrei averla. Si, su, sin, 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 si, su, sin. Perché c'è una decision nuova, è suonato a oro. A 2200. Però, dai. Cosa sei tu? Oro. Oro, 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 quanto oro ti darei. Oro. Difendite la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di te. Eeeh, asan, asan della polis, asan, asan della polis, così, giusto? Aspetta che metto io i giugolini. Dove ho fatto anche capirlo? Asan della polis, venite qua, ci sono i giugolini. Ma non me ne frega niente, Marco, è entrato un robottino. Asan della polis. Ma ci me ne frega, guardo. Asan della... Eh? Asan della... Asan della polis. Aspetta, ci penso giù qua adesso. Chi è il robottino? Terminator, ma grazie. Io, quella battuta l'avevo già fatta io. Oh, lo hai fatto, sa qui lo bottino. Guarda che sei veramente un piscuano. Sì, io non ci pretengo. Sì, io non ci pretengo. Guarda, per fortuna che stessera non può giocare a te. Sei veramente un piscuano, Sì. Mi scusi, mi permesso. Però mi scappa sempre. Mi scappa sempre. Mi hanno spaccato la faccia. Sì. Assas della polis. Bum. Aga tanga della mica. Chi c'è? Ma mettono qua, li metto. Da fastidio. Allora, dobbiamo stare molto attenti. Amici, io ho distrutto il ventilatore e il computer. Amici, io ho distrutto il ventilatore e il computer. Sì, io lancio là. Ok, sono da l'altro lato. Qual è il lato, Marco? Il vostro, perché da lì non si sente niente. Qual è il nostro? Dove sei tu? Che prendi, da... Eh, da lì l'ho sentito io. Ma potremmo fare il piscuano anche qui. Lo sentite da destra? Sono qua, sono. A meno che non era uno di voi. Non era uno di voi, infatti è bucato lì dal punto. È bucato qui. Ah, c'è i bann a Spagna che sta bucando, eh. Ma merda, sono sopra le cose. Ciao, Marci, che si dice? Cosa là? Ciao, Marci, cazzo mille. Ma stanno rompendo anche lì? Eh, niente. Quanto, gente? Sono tutti sul cornicione sopra. Dove sono? Sopra sono tutti, quindi non c'è nessuno lì. Sì, sul cornicione. Grazie, Lorenzo, aria. Grazie, Lorenzo. 26 mesi, grazie mille, Lorenzo. Marci, guarda a sinistra. Sono almeno in due, sono sopra. Vabbè, non sei su un so... Ah, le spalle! Era una scritta che passava, forse. Ah, cazzo, da fuori sono. Vuol dire una scritta che passava? È qua. Ah, da fuori. Occhio a mandare anche le stanzioni grandi, che sono da fuori che sparano. Questa roba non fa sistemare la testa, perché sparano da fuori. Pintana. Però sistemano mai. Eh, però sistemano. Eh, dal finestrone sparano e tu non li vedi neanche. Parca vacca. Vabbè, puoi non uscire. Con finestra, comunque. No, poi puoi non uscire. No, potresti fare le rinforzate, dai, che non puoi sparare qui. Come le rinforzate sulla finestra, scusate. Dove farlo è il robottino. Avete così tutti i robottini? Entrano da tutte le parti, amici! Vabbè, finché devo entrare... Devo entrare... Eh, ma è tutto bucato, Esprit. Ma ora hai messo le trappole davanti ai buchi? Sì, è davanti alla finestra, non ho messo le... Eh, allora, niente, stiamo qua, aspettiamo. Vabbè, l'ho... Ha tirato tracce. Eh, niente. Preparati tutti qui, eh. Esprit, guarda qui, tu nel corridoio. Eh, sono un po'... C'è il codicione qua sopra, lì, il tetto. Ok, l'abbiamo spostato lì. Sono sparato alle cose dietro. Pintana. Da dove stanno sparando? Eh, sono qua, sono qua. Sento Mauro. Mi stanno incrociando gli occhi a pure di guardare nei buchi. Non ha preso qua, eh. Eh, l'ho visto, è qua! Ma che cazzo, ma dove era? Lo sapevo io. Marco, Esprit è morto. Non è morto, l'ho colpito, ma non è morto. È in una stanza di merda. Ma ora ne ho ferito uno qua, eh. Ok, il nostro è morto. Dov'è, Esprit? È nella stanza... Ha preso le spine... Quale? Eh, sinistra era. E poi a destra, senza guardare in fondo. Qui, era. C'è, lì dentro la stanza, però. Non nel buco. Poco nell'angolo in fondo era. Mi ha visto col robottino dentro, eh, quindi attacchiera a me. Esatto, lì così era prima, se l'ha mosso. 15 secondi. Ho più sinistra anche Marco. È arrivato lo stanzione di là, Marco. Ecco. Marco, no! L'altro è per terra, l'altro no, però. Ok. Ottimo. Scemi di merda, scemi di merda! Grazie, 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 bello. Ficco. Come ha sospeso per un secondo? Ragazzi, ferma e bannatelo, non è che... Ti sospendi per un secondo. Quanti deficienti ci sono oggi, cos'è? Ci sono dei ritardati? Che è successo? Eh, no, in questi giorni ci sono gli spameroni incredibili. Ma o davvero ci sono gente nuova che... No, no, sono esterni. No, no, a parte di spameroni. Proprio gente a caso che insulta. Non saprei chi... Eh, faccio ibanache, sembra. Ho dubbio davvero che c'è gente che venga da YouTube. Davvero. Su questo dubbio io. Eh, va bene, comunque... Da qualche parte deve arrivare, non è che... Pur si muove. Eh, pur si è etnica. Se il clan degli imbecilli in etnia, sì. Comunque è spretto. Io ho visto il film di Seven Deadly Sins. Cosa ne pensi? Arca puttana, eh, sua... Terribile, è la cosa più brutta che io abbia mai visto. Dai, io... Non ha un cazzo senso niente. C'è l'unica roba bella, è la battaglia finale. Esatto. È bella, effettivamente. Ah, non De Rocchio. Sotto, sotto, sotto. Ma c'è un personaggio che si chiama De Rocchio. Come? Ah, il mio De Rocchio! Stavo ragionando... Esprit, stavo ragionando con Moro. È un personaggio che avevo fatto tipo i smite, De Rocchio. Come? Uno dei due account che avevo fatto prima di... Eh, sì, eh. L'avevo chiamato De Rocchio. O De Roccia, uno dei due. O De Rocchio o De Rocchio. No, no, non De Rocchio. Proprio De Rocchio. D-E-R-O-B-C-H-E-O. È tutto un po' a caso, cioè, non c'è... Ma, 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 ma... Ma scusa, ma è già fu... Ma quello è fuori, ma l'abbiamo visto neanche per... Sono passati due secondi, eh. Non è che non sono passati, tutti i bastardi. Allora, io faccio una cosa adesso. Lancio il drone. Puttana. Controlliamo animodium. No, no, è... Non è canoni quel film. Però, almeno, magari, potrebbe essere qualcosa di sensato e bellino. Invece, porca puttana, sono tutti cliché di merda. O ancora in mezzo alle balle, è tutto più incredibile. Cioè, visivamente è bello, però dovrebbe essere terribile. Ah, visivamente, come gli altri, non è che... Invece, è tutta una cavolata, cioè, è tutta un... Eh, ma per forza. Cioè, c'è loro che vanno in questo posto e incontrano i clan dei ritardati, ci sono, purtroppo. Che non capiscono un cazzo perché sono imbecilli, ma forte. Un po' bigchia, uguali. Non è che sono così uguali, comunque. C'era... Non hai più le ali. Eh! Deficente. Non sono io. Per tutto quello che ho. Deficente. Per tutto il cazzo di film. Non sei più mio figlio. Eh, guarda, non sono mai stato mio figlio. Ricca, ricca! Tutti i cuglioni bastardi. Aspetta, faccio partire i telefonini. Io non lo guardano nemmeno. Eh, ma tanto non... Cioè, che po' è taa! Non ti parli un cazzo. Cavola, se lo avessero fatto un pochino meglio... No, ma anche fosse stato canonico, se piuttosto me lo facevo raccontare da voi, se è così brutto, non ho voglia di star lì. Più che altro potevano almeno fare un film su qualcosa di... Non è che è una roba imperdibile che... Non è che è una spiegazione del mondo, magari. Che paura, Morelli. Perché davvero non ho spiegato niente così, ma non sono detto... Ah! Eh, sì, sì. E' successo qualcosa. E' proprio c'è nessuna roba da spiegare con cui si vede dei scenes, se potrebbero farle in un film. Ma roglia. Ma anche semplicemente fare un film sulla guerra... Fredda. Sacra. Eh, vinci per questo. Dov'è? E' morto lì il sword. Ah, dalle scale sotto. Scale sotto? Lì, quindi? Dove sono morto io però. Rompete quel drone! Sì, quello, sì. Morelli, che fai? È giù, è giù, Morelli, è giù. Ah no, è andato su, niente. Allora, ciao. Dai! È lì? Scusami, quanti colpi? Alle flame! Grazie alle flame, alle 25.000. Grazie alle flame, alle 25.000. Grazie. Grazie caro, grazie. Hai morto, ecco. Porca puttana. Io, Udutturi. L'avevo già colpito prima, ma ho securato. Ho disintegrato prima di ammazzarlo. Eccolo su Chuk! E niente, perché come non muoiono mai i blitz? E il nostro è morto subito. Ah, ah! No, è lì? Due contro due, sì. Mi hanno sparato. Dove? È lì! Nella... Ma l'ha colpito in testa, Estra, l'ho visto io, eh. È nell'ascensore, sì. C'hai le granate? No. Eh, però l'altro non si sa dov'è, occhio. Eh, no, alleluia. E ne manca uno. Quello là l'hai ucciso? Sì. L'ascensore è morto. È in tua stanza, l'altro. L'ascensore? L'ascensore. È in una stanza, l'altro. Vabbè? È dentro, sarà dentro, Estra. È successo, ho veramente un fatto. Ho saltato dalla finestra e mi ha sparato nel culo. Occhio qui. Eh, infatti. Eh, sì, eh sì. Quante ne aveva messe? Venti in fila! Mico, non andare se vedi che è tutto minato. È ormai è entrato... C'è una, una, duecento... Senti che roba! Ma che cazzo dove aveva messe? È entrato... Pum, 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 pum. Eh, ok, io sono entrato dalla finestra, mi è saltato il culo, mi ha abbracciato, mi ha tirato un pugno nel cacchio. Oh, urlo, sì che urlo. Quante cacchio erano? Io ho pensato, dovrei ucciderlo, non sono segretto da lui. È chiaramente fatto con i minicicieli, bro. Pum, 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 pum. Allora, dobbiamo invitare Giorgio? Non è la novità, comunque. Vita Giorgio? Eh, invitate Giorgio, è che non so. Invita in vita. Invita Giorgio, dovrei avercela io. Invita in vita. Invita in vita. Invita in vita. Esprit, ti do un pugno. Farà brutto! Grazie a far brutto! Grazie a far brutto! Grazie a far brutto, è una buon difficile. Ma, sezione buona parte nei trapparò benotto, è vero, è un palindro. Ah, ma che cacchio ti immagini nel profilo a Giorgio? Un gatto con un altro gatto, credo. A me non sembrava. Ciao Giorgio, buongiorgio! È scemo! Ehi, ehi, fammi drogare. Anza, senza, senza. Non ricordo. Ciao, moro! Eh, quanto lontana sembra. Scusate, stavo guardando i fatti miei su Instagram. Prego, prego! No, eh sì, prega pure, figurati. Fa un piacere le persone religiose. Allora, prendiamo Thatcher. Questa volta lo prendo, eh, non mi fregano. Si, gli speca la faccia. Io prendo Blitz. Ma nemmeno nessuno per rompere le cose, aspetta. Allora prendo per rompere le cose. Allora prendo per rompere le cose. No. Giorgio può guardarsi direttamente live, tanto con il ritardo un po' basso che c'è. Effettivamente. Ma sembrava la canzone di Totti che canti... ma quale? Fa la canzone, fa la... Francesco Totti. Fa-ra-ra-brutto. Quella lì è fede. Come? È l'unica che ho cantato recente. Magari ne ho cantato un'altra, non mi sono reso conto. Sì. Ma ormai... Quella che ha detto Moro. Francesco Totti. Eh, ma... Intendevi quella di fara brutto? Quello stavo dicendo. Sì, penso che sì. Posso così, doggio. Mi raccomando, dobbiamo fare almeno 20 uccisioni da testa. Eh, non si può. Mi dispiace. Mi sai, Marco. Buongiorno, belle gnocchia. Buonasera. Buonasera. Come buonasera? Efficente. Hanno rotto... Oh, tomeccati! Avete trovati bravissimi complimenti. Sì, mi ha beccato? Non ho detto come l'hanno fatto. Eh, hanno trovato... Come l'hanno rotto, vedete qui? Ma non l'hanno sentito. Il tacchio, la finestra. Ma ce la fai, Morelli! Valtilmer, Morel, l'hai vista? Cosa di culo. Dov'è la telecamera di Matti? Dov'è la telecamera di Matti? No, non è vero, deficiente. Non è una telecamera di Valtilmer. No, è una... È brava. E' una telecamera di Valtilmer. Eh no, perché da sotto sembra una cosa seria. È un incendio, è una luce, infatti, quella. Quello è Echo, però. È Echo, però. Che non lo prenderò mai col tasso là sopra. Ma vuol dire, è la luce, non è un incendio, è deficiente. È l'antincendio, storicamente quello lì. Ah, è la luce. Quella lì, sì. Attenzione agli... Ma sì, è Marco. Dov'è, dice? Ma porca vacca, c'è Marco, ho preso le mani. Ho preso a caso. Ma dovete stare sempre attenti qua. Non mi sono mosso. Non è vero, io non sono visto. Ma perché hanno elettrificato il garage? Eh, un passo ti uccidono. Se non ti muovi non ti possono uccidere. Vediamo se rompo qualcosa. Neanche una cosa. Oh, si impara a fare di bastardo. L'ho asciutato attraverso l'albero perché ho sparato a caso dalla finestra. Secondo me... Tacca dura. Ma non c'è niente, ragazzi. Non riesco a distruggere nulla. AIA! Non so chi è, non so chi è, non so da dove. Nel garage c'era Uino, eh. C'era Uino. Sì, però questa parete... Ma perché che ha rotto? Ma sotto te è rotto? Eh, sopra non c'è nessuno, scusate. Non penso. Perché dobbiamo stare sopra? Per rompere giù. L'ho visto, stando su, è uno. Stando su uno. Da destra moro. Puttana, che pompa che aveva! Eh, infatti. Eh... Dalle scale? Era tutto preparato, sì, di sopra, di sopra. Sì, diate scale scende, sicuro. L'ho ucciso. Ah, che palle c'è, c'ho però, sono giochi preziosi. Non fa più molto il drone di E-Cho comunque, non l'ho fatto. Continua a fare così, continuo. Non so dov'è. Eh, è da me. Niente, l'ho colpito ma non è morto. Niente, non l'ho... Puttana. Ando via, ciao. Mi sparano, non so dove sono. Eh, vabbè, non ho idea di dove sia, anche guardando. Non vedo un cazzo, non sento un cazzo. Sto cazzo di drone, lo stando niente dal gioco? Eh, è lì. L'ha ucciso. Stai sento di là. Una C4, eh, Sprint. Sì, se state fermi quando vi colpisce, ciò finisce prima. Sì, vabbè, comunque... Cazzo in. Inculata. E di suoi scade ho visto. Sto seguendo, eh, Sprint. Oh, giove di merda! C'ha messo qui. Sopra, fagli un giro da sopra. Questo è quello che ha ucciso me, mi sa. E' bastardo. E' entrato nel punto, credo. Eccolo! Tè! Tè! Questo ace, cosa volete fare qua? Quanta vita aveva? Eh, mi sa che mi compascia la faccia. Acce gentile. Ma è morto. Cosa è successo qua? Acce gentile, ragazzi. Anche amici, ovviamente, si è messo nell'angolo. Io, è stato scopertissimo. A me non lo scopo, ma metterlo. Un coglione. Perché qui non è che è molta copertura, eh. Però almeno ho la barriera davanti. Porca manca. Allora, questa volta opterò per un'immagine di Fantas... Ghiro. Fantagiro. Fantagiro. C'è Romo Aldo sulla strada. Vende il corpo per dei soldi. Per denaro. Fantagiro. Ci c'è me l'Uber. Gio Gio Gio, ti sapessi queste azioni bellissime? Il dolore, Spritz. Io ho sentito. Ma, parecchio. Bravissimo, eh, Spritz. Parecchio? Parecchio. Eh sì, perché senti anche il live, dai. Allora, vi metto i robottini qua. Però, quanti secondi sono? Ma che pane, questa stanza di merda. Ho anche pingato, eh. Chi? Chi? Senti, non ha sentito. Lo sapevo io. Ah! Ma... Ho un robottino, io ce l'ho prenderlo? Uno l'ho preso, gli altri 16 no. Questo non mi è scappato. Un robottino. Eh, il mio ping che sale. Oh, Marco, non si prende. Niente, non riesco. Poi scapp... È possibile, oh. Un mondo con le palle, con le bave. Ma bastardo, Capcan. Chi? Giorgia, mi metti le bombe? E io dove metto le trap? Eh, nel culo. Proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi. L'ho distrutto. Rompono. Ho detto qua, lo metto. Mi vado, dove vado, mi vado. Di qua. Perché loro non sono qua? Chi? I nemici. Eh, arriveranno. La taglio un po' di tempo. E io... Eh, appunto. E io di nuovo. Ma sì che ha detto parecchio, ragazzi. Credevo scherzassero loro. Che cosa? Giorgia aveva detto parecchio, non fate fai ecco. Io ho capito fai ecco. Ah, ma avevate capito perdonare. Sembrava fai ecco, no. Ma va, è un vecchio. Ma Marco, io c'ho le chi casate. Eh, Giorgia? Eh, mi spuglioni. Non so se uscire, non so se sanno blazzaro, non riesco a capire. No, però te... Eh, mi ha sparato! L'ho ucciso. Ho quasi dovuto... Guarda, non mi ho sparato prima perché sono omatato un morto. E' fatto. Le mie palle? L'ultimo nemico è rimasto. Non l'ho preso? Eh, sotto l'ultimo nemico è rimasto. Vai alla carica. Oh, 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 va. Questo casino. Ma sono andati veramente troppo visbi, eh. Comunque ho ucciso Blitz è stato veramente una... Un'altra soddisfazione. Senza mirare, proprio. È proprio una goduria uccidere quel maledetto, guarda. Guarda, facciamo una cosa. Visto che c'è George. Che vuole? Anzi, un attimo è il volume della chat del cacchio del gioco. Io lo sentivo molto bene. La parlava? No, non stava parlando, però quando parlava la sentivo molto bene. Sono delle persone che mi spaccavano i timpani a volte dei partiti normali. Quando facevo le ranked. L'anno scorso. Le persone che parlano così vicino al micro, ma fortissimo. Tu sei un deficiente che li ammazzi in chat. Già li ammazzi normale, già. Io, Marco, ammazzo te. Eh, sì. Trovate la posizione del contenitore di Biorizio. Andiamo, merda. Ben fatto. Il contenitore di Biorizio è stato individuato. E' Romualdo sulle palle. Come? Ho distrutto una telecamber. Mi ha rotto il robottino. Ah, ok, sì. Prego, prego. Marco, tu non devi. Parcuse. Non moro. Cantiere edile. Sono a 200 euro per rifarlo, mi spiace. Inserimento tra 10 secondi. Occhio adesso, eh. Mi raccomando. Inserimento tra 5 secondi. E' Romualdo sulle palle. Occhio ai cazzi. Io tiro un robottino dal di là della collina. E la notte di prima. Io ho sentito burlare comunque. Hanno burlato, eh. La mia è normale. Marco, se taci per tutta la tua vita, eh. Stai zitto, moro. Stai zitto, per favore. Allora, io sfondo il garage se qualcuno mi viene a farmi dare. La saliva. Chi è Twitch? Marco, sotto il garage. Ma come non posso? No, era pieno di robe. Ma ce ne avrei un altro. No, l'ho già usato per distruggere le telecamere dei primi. Ma sei veramente un bastardo, sei. Fallo tu. E prendi le cose al mondo. E non posso, io sono testa di cazzo. Infatti non serviva un caliezaro qua. E anche è in verità della verità. Io sono fortissimo, Marco. Grazie, serve. È semplice. Poi, poi, anche non sono mai sotto. Se non vuoi sopra, vuoi sopra, sulle scale sopra, eh. Se non mi so, puoi sopra, sulle scale, uno. Quelli grandi. Provo. Ma dai! No, ragazzi, ma come ha fatto? Ho sparato prima io, c'ha un HP ancora. E' valchiria che se gli soffiate... Se gli parlate un po' troppo forte nell'orecchio muore, valchiria, ve l'ho dito. Eh, sono esploso. Mi ha tirato... Mi ha appoggiato... Mi ha fatto danno, tirando il 1.5 a 4 addosso, e poi mi ha fatto esplodere. Occhio che val... Vabbè che tanto, valchiria, appena la vedete morta. Stavo parlando, ho spuntato sul telefono. Purino. Occhio a destra, esprit. Eh, adesso sono ovunque. Eh, lo preso al volo con la faccia, poi... Valkyrie era qua, poi lo mi ha ucciso. Sì, ha mezzo HP, per davvero. Bisogna anche un giro a cogesare. Ma non so neanche dove sono, non ho capito, sono sopra o sotto. Aia, Giorgia è stata svenuta. Scusa, urli, esprit. È sopra. È presi sotto o sopra? È nella stanza, era nella stanza a destra, esprit. Però sono un po' da perduto. Infatti ha sparato... Niente, come prima, esprit. A questo momento non ce la farai. È schifo, Marco. Eh, sono golosi. E qua lo sento sopra, anche io. Ma che cazzo? Ma sta shottando? Ma da lontano poi quel pompa, siccome ha shottato? Niente in testa? Veramente aveva fatto lo strato. Adesso voglio vedere. Vabbè. Vabbè. Ma sì. Era full vita. Era full vita, era. Ma sì, dai. Dietro, dietro la cosa, tra l'altro. Allora. Allora fare il culo, andrà. Veramente imbarazzante con questa cosa. Veramente sono inauditamente... Sì, io quelle due volte che sparano, c'è un pezzo di mezzo in mezzo, non arriva neanche un colpo. Forca vacca. Lui ha rotto sia... Ha rotto sia ringhiera, ha rotto sia messo e albor dietro. Cioè, non so come... Vabbè, ma Albion, ci può stare che l'abbia colpito, ma non che l'abbia ucciso. Cioè, mi ha scioltato non in testa. Cioè, mi ha scioltato sul corpo. Se l'abbia colpito, ci può stare. Vabbè, c'è la rosa dei colpi, gli ha sparato più o meno lì e va bene. E il fatto è che sia morto, che mi sembra strano. Eh, infatti. E poi darei portare Ubisoft per questo fucile del cacchio. Sì. Forca puttere. Comunque, amici, c'è qualcosa che non va in Twitch, perché anche ieri da Frank l'hanno raidato dei bot che bestemmiavano. Ottimo, ottimo. Quindi non ho capito bene. Dei bot? Non credo siano dei bot. No, non erano persone vere. Perché lo scrivevano in continuazione, a volte spammavano frasi cinesi. Uno paga i bot per spammare il mio a cazzo. Non lo so. Vi metto i giubbottini qui. I giubbottini sulle palle. Poi erano bot perché saranno arrivati in 50-60 e pure gli spettatori non aumentavano. Poi non c'entra i bot. I spettatori fanno aumentare. Eh, non lo so, è rimasto comunque la stessa gente. Il bot era Twitch che non conta bene. Non ha fatto l'elementare. Ma cazzo la metto la scossa io, non servo a cazzo. Che ne so, Morelli. Mettete nel culo. Il drone ha individuato il contenitore di cazzo. Eh, io non so dove finificare. No, no, disco, se bestemmi qua ti ferma a banno, non ti preoccupare. A prescindere da se lo fai con calma o no. Posso dire con calma? In chat ti bestembiai, che cosa vuol dire? No, no, ma in fase non è che lo fai con calma, ti perdono mani. Romualdo con le palle. Beh, bestemmi no, mai. Chi è questa qui? Oh, Marco, ciao. Salirà qualcuno lì sulle scalette, dai. Lo fanno sempre. Sì, lo fai con i vostri amici. No, no, sì, lo fai con i vostri amici, chi se ne frega? Però il chat ti bestemmo. Cioè, fai la tua vita, per carità. La mia chat la voglio pulita. Sì, gente che hackerai per te con videofense, quindi guarda. Ah, sono qua sotto, mi sa. O dalla porta principale. Ah, che cazzo. Non ho capito dove sono io, eh. Fa me analizzare il telefono, qui. Ho sparato al coso, per fortuna. No, ovvio, disco. Ho invennato sotto, di nuovo? Ah, perché spara te, more di sparare la mia coppia. No, perché hai scritto senza spam. No, perché era preferito quello che avevi detto tu, che spammavano raffi, come ho detto che l'ho fatta. Ah, no, no, no. Eh, vabbè. Moro, ma sono giù? Sì, sì, in due sono giù. Rompiamo un... Rompiamo un... Un tribunale. Rompò qua. Eh, vabbè, quanti colpi per ucciderla, sta maledetta. Ma qualcuno è dentro. Ma porca puttana, ma ho in testa in pieno. Giorgio, c'hai anche tu davanti a me? Che è successo lì? Voglio di vedere, perché c'è un castillo a Giorgio, ci siamo incastrati. Ma porca vacca, vacca. Siamo sbattuti contro entrambi, ma... Ma dai! Stiamo entrando, mi ha detto. E' stato preso dagli attaccati. Scusa, Giorgio, non ti avevo vista. Ci sono andato addosso tantissimo. Bastardo. Ma più che altro... E' bene, è bene. Più che altro? Più che altro? Più che altro generico. Ah, perché qua non si parla in chat. Bravo, Corna. Corna, stai lavorando per questo che sia? Più che altro si è alzato e, a caso, ha sparato a me e a te con due colpi. Sì, bene. Ma è quello di prima, ancora? Ma è più probabile, guarda. Posso vedere i punti? Era a prima classifica con 277... No, era i... I chili di petti. Guarda, io sono gnignato, guarda. Io sono gnignè. Ah! Ah, mi spiace. No, perché? Come si sente di essere gnignè? Non sono molto contento. Adesso mi addolgo, o Solfix, inizialto. Fanta chiro, fanta chiro, fanta chiro! Tiri, 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 che c'è la compagnia e ci gli dà una mano, perché le persone che mi chiamano sempre dei deficienti mi ci dà una mano. Questo è un robot di... Porca di quell... Non è possibile. Ma ho rotto io. Eh, non posso, aspetta. De che? L'ho rotto. Io metto lo scudo di Palmas, Giorgio. Ok, quindi adesso posso sentire Giorgio. Bravo. E' un robot di tutto il culo, morelli. Stavo per sparare a quello di Marco. Questo lo metto qua. Ciacolazzo nella manica. Croglione. L'amico ha individuato il contenitore di Biori. Ne vado io. Romualdo sulla statale che fa sesso col maiale. Adesso è immobile qua in cucina. Come Black Mirror. E' un error. Ma vabbè, ma disco, tranquillo. Era che, come l'avevi scritto, sembrava stessi dicendo in chat. E ho detto no, in chat no. Eh, fai tranquillo, tranquillo. E' la, e' la. Chi è? E' la, e' la. Grazie. Grazie, Gavamail. Gavamail. Eh, sì, Stoffer. Probabilmente è il grande periodo. Ma hanno accaduto le camere? Perché sono delle camere che sono... Che succede lì? Ve l'avevo spottato? Ora non credo ci sia più lo spottato. C'è, scopo. Grazie, Don Vido Garulli. Grazie, Don. Grazie. E' entrato un altro, ma porca puttana. Stanno entrato tutti da lì, stanno entrando. Stanno prendendo l'obiettivo, eh. Eh, ragazzi. E' sopra. Veloce, veloce, Sprint. Allora, devi mettere il bergatela. Ho ne ho ucciso uno e sono dietro la bomba, io. Stai lì, stai lì che la... Eh, occhio, sulla finestra. Era sulla finestra. Come ti ho messo le barriera, è un punto sbagliatissimo, comunque. Ma quella della finestra l'ha ucciso. Grazie. Quindi dove l'altro? Gentile. E sento uno con lo scudo. Ah, le spalle! In bagno. In bagno. Eh, ce l'ho a bisogno. Eh, no, volevo lanciarlo nei... Nei cosi, da. Ragazzi, arrivo in bagno. Aspettate, aspettate. Vado col drone, vado col drone. Eccolo, blitz. Si, viene tutto qua. Porca, ma che... Lo stordito. Lo stordito di nuovo, vai. Dai! Ok. Caccio, fatica per lo spazzarmo. Questa è completata. Eh, con due stunne volevo vedere se ci muovano di lì. Olto bene. Olto però, eh. Olto bene. Olto? Olto bene. Olto bene. Olto bene. Alla partita, vai. Sono veramente Gandhi oggi, eh. Ah, che piacere. Amici, domani mattina rifacciamo Deep Rock Galaxy. Sì, domani mattina facciamo profondo, eh... Eh, voglio vedere come va avanti. Sì, siamo avanti sempre uguale. O si caga un po'. Ho ancora la caga che faccia cagare. No, io no. No, non fa cagare. Sicuramente non fa cagare. Ormai non fa schifo. Semplicemente, spero ci sia la più... Però, ol' dubbio, volendo che se un gioco molto... Olto non fa cagare. Olto, sei proprio un pignolo del cacchio. No, ho capito. Cagare nel senso che diventa palloso, non c'è più voglia di giocarci. Cioè, se tutto il gioco è... Se tu credi che voglia di quei giochi da, non vuol dire che fa cagare. Magari se un gioco... Chi è che ha voglia di giocare un gioco così, scusa? Eh, uno che ha voglia di farming. Perché a me stia piacendo che vuole giocare un gioco. Eh, ma il farming porta qualcuno. Ma infatti si vede che fino a fatto si off-tease. Beh, però a me piace giocarlo. Sì, ti gioca un sacco io, eh, vorrei. Uno ci gioca tutto il tempo, ma ci gioca. Questo qui è solo farming senza che ti porta risultati. Il fatto è quello. C'è una storia di niente, eh. No, vedremo. A parte del fatto che, secondo me, qualche boss e cose del genere ci sarà. Ma sì, è vero. Poi magari non c'è, ok. Ma già la prossima missione era un boss, non so. Anche perché credo sia ancora in elaborazione per bene. No, credo che sia finito. No, è finito in teoria. Non lo so, credo che sia finito. A parte che è fatto comunque bene, secondo me. Non è che è fatto così male. A dire perché fa schifo. Poi magari, sì. No, ma non è fatto male. E che se non c'è un cazzo da fare è un gioco di merda. Sì, ma, però... Perché è fatto benissimo, è fatto. Probabilmente lo riporteremo. E ora è un po' più facile farmare un po' di soldi. Cioè, soldi e punti, in realtà. Mi stavo parlando prima io, esperto, probabilmente lo porteremo. Ma passiamo, confine. Non mi ricordo che mi facciamo a fare. Adesso c'è una frazione dei mercanti, lì, no? Devi catturare i mali e portarli. Sì. Aveva messo, ai tempi, al terzo DLC, cosa cacchio era, al secondo forse, aveva messo che... Adesso invece che prendi i mali devi portare le casse da un punto all'altro, che è già più veloce. È una merda comunque, perché non è proprio così bello, però almeno è più veloce. È ancora un accesso anticipato. Devi portare, tipo, le bottiglie di vetro che non devono rompersi, devi portare i tessuti che non devono bagnarsi. E cos'è la tezza cosa? Cos'è Gattera? Gattera. Qualc'è la tua sua? MBB, Gattera. MBB è un verbo, Gattera. Gatterare. Sì, vabbè, c'è la stock. Gatterare. Ah, sì? Sì, Gatterare. Non lo conosco. Sì, che è un... Sì, che è un italianizzato. Ah, ok, ok, ok. For the King, probabilmente giovedì e venerdì. Atlas ce l'abbiamo anche, solo che è veramente un gioco terribile. No, Atlas. Guarda, io sto spettando, io voglio raggiarci un pochino. E infatti sto, avrò aggiunto con i Twitch e tutti i ragazzi di loro. Il problema è che poi si sono spostati 20 isole, quindi aspetto a che si fermino di nuovo. Non sono male di spostarmi ogni due secondi, io, mi spiace. Esatto, RackCorn. No, Korn, mercoledì facciamo il ritorno al Talk Show adesso. Mercoledì, giovedì e venerdì faremo... Fatti anche Stalker c'è nel gruppo. Dovete trovare il contenitore di cui è un visione. In realtà, se sei in tanti è anche bello, Atlas, secondo me è venerdì, se ne ero tanti. Ah. Non è così facile, purtroppo, un risopo. Ah, io sono pronto a ricredermi subito, ci mancherebbe. Esatto, purtroppo avevo quel piccolo stronzo, figlio. Ahia. Che è successo di sopra? Credevo di aver pizzicato uno del sederino, invece mi hanno spaccato la fai. Eh, vince, quella è la Sestberg da due piedi, cava, sapendo? Ma è quella che abbiamo fatto, scusa. Grazie, Stax. 50 ca... No, noi abbiamo fatto la missione a casa, abbiamo fatto noi. No, noi abbiamo fatto quella lì che c'era 7000 isole da prendere a 7000 casse. Sì, ma non era quello che dice lui. Eh, cacchio, Joker. Io me li sto rivedendo un po' di tesori, l'abbiamo fatto noi. Lui dice di consegnare un sacco di casse a trovare un posto. A For the King si può giocare solo in tre. A For the King si. A Atalas no, ad Atalas puoi giocare... Un sacco di casse che le dovevamo prendere e poi consegnarle una van posto. No, poi era un forziere a trovare le isole. Le casse che devi consegnare ti danno loro alla van posto e le portiamo a van posto. Sì, Atalas purtroppo... E' un... E' Arche. Un po' più complesso addirittura, forse, perché devi comunque navigare. Niente. Mi hanno fermato il robot. Mi fiume, no? Eh. Ah che cazzo. Vabbè, vabbè, facci la testa in giù. Ok, io ho detto così. Eh, Disco, sullo sport c'è Kurokono basket, c'è IQ per la pallavolo. Ah, c'è 4! No, non l'ho ucciso. Chiuso io. C'è... In Azuma Eleven se ti piace anche un po' il fantasy col calcio. Non è realistico in Azuma Eleven, però è molto divertente secondo me se ti piace il genere. Poi cosa c'è? C'è anche A-Shield 21, che però anche quello lì è mezzo fantasy, cioè non è proprio... Hanno i poteri. Scusami? No, cosa ho distrutto? Ma c'era uno qua nascosto! Ma porca vacca. Shooter perché non sto giocando molto ad Atalas e siccome erate già andati e già partiti, ho detto vabbè, aspetta che si fermino. Ah, da dietro. Bisogna davvero poco ad Atalas. Se potessi sapere io devo studiare. E devi mancare la sista, eh? Qui. Non c'è più. E fa uno, eh? Di occhio. Morici. No, le tratta. Ok, sono come un... Dove sia l'altro? Ovviamente è vero, ha ragione anche sì, orrei un certo senso. Cosa? Togli e badge, fantasy col calcio, almeno siamo... Giusto. È vero anche quello. Giusto. Però vabbè, diciamo che è fatto di proposito. Ok, ottimo Marco. È fatto di proposito in Azuma Eleven. Sì. Sì. Azuma Eleven è un po' fantasy... Tanto fantasy. Come ha seduto lui? Così, guarda. Bel lavoretto pulito. Questo ho dato ragione a me. Ottimo, ottimo. Difensori eliminati. Missione d'attacco evita. Eh, IQ è carino. Cioè, devo... Allora, io purtroppo ho visto la... L'Incipit. Devo guardarlo adesso che l'ha messo su Netflix finalmente, così lo posso guardare. Perché di leggerlo sinceramente sono 200 volumi, riprenderli, non... Sono tipo 25, 26. Non ho i soldi per un manga solo, spendersi così tanto che non sia... Tipo, per One Piece lo farei ancora perché è una cosa mia, d'infanzia. È il mio preferito, però... Insomma. Rocky Joe... Io Rocky Joe però non è proprio un... Cioè, è uno Spokon, ma è talmente tanto profondo. Ha talmente tante tematiche serie che forse è più un seinen, per alcuni punti di vista. Come siamo arrivati a parlare di anime, Marco? E di manga? Cosa? Come siamo arrivati a parlare di anime e manga? Eh no, perché han chiesto un manga sportivo da leggere o da vedere. E come siamo arrivati ad altri manga che non c'entravano quali miei sportivi? Chi è che ha detto manga? Che giramento abbiamo fatto? Quali manga? E che ha fatto di One Piece adesso, c'entravano come sportivo. No, perché ho detto non spenderei magari per IQ, che è un manga sportivo e... Ah, ok. Se volumi non spenderei tutti questi soldi come lo farei con One Piece, magari, che è un manga d'infanzia e spenderei quei soldi in più. Anche se so che costano tanto. Quattro città nello moltini qua, eh. Bastardo. Riempire di... Che fai giù sto rompendo. Aspetta, bravo, non posso mettermi la trappola qua io adesso, porca vacca. Eh, Rocky Joe ce l'ho fisico io, ragazzi. Stai scorsi di in merda, chi è? Che fai giù, Marco. Che c'è? Eh, che non posso mettermi le trappole di Frost perché ce l'ho scossa. Eh, ma perché c'è i robottini, aspetta, al massimo... Metti le... Mi sa che sulla finestra li hai messo. Va bene, ma non succede niente. Metti, metti. Eh, non so se posso evitare, ma come se mi si rompe. Metti, metti, l'ho tolta. Scusa, con il Frost si rompe, non credo. No, è che ha messo mute comunque Georgia, quindi niente, a posto. Giustamente a lei non ci sente. Però muando sulle palle. Aspetta, faccio così, allora. La piazza è lo sport, eh? No. Sì. Slam dunk? Certo, anche slam dunk. No, Georgia, no! No, Georgia, no! Eh, niente. Non si è accorta che stavo mettendo i... Per cosa? Eh, stavo messo il mute quando c'era il mio... È fuori dal raggio, Marco. Ah, parca la c'è. Eh, sì. Cosa stavo dicendo? Ah, sì, slam dunk deve uscire adesso, mi pare a feb... A febbraio dovrebbe uscire il manga fisico di slam dunk, recuperatevelo. Lo recupererò anch'io perché non ce l'ho fisico. Molto bello, anche quello. Quello sono i piccoli edificenti? Sono qua fuori. Del maledetto con lo scudo. Gliel'ho rotto. Cioè, quello di Blackguard, non quello di montagne. Cogliona! È un altro di fianco, eh, occhio. Scusa, troppo. Scusate. Rotto forse una trappola. Dove cazzo? Sarò là sopra. Sopra, eh? Sono io che sto... La prendo sopra, ma non ce l'ho più. Vai qui sopra, Gliel'ho, che... Perché sto vedendo di imbeccarli, mamma mia. Capito. Capito. Qui sono nel punto in 78. Gliel'ho rotto, ma se ti butti fai una strage. Sono morto. Eh, però non so. Se ti butti fai un macello cane. Marco. Vai, Gliel'ho rotto. Ho visto una nuova trappola, eh. Nel punto. Questo era un altro, però. Perché quello è caduto? Uno è terra nel punto, eh. Ero io, ho ucciso... Marco, perché? E ti ho capito... E ti ho capito. Non t'ho visto... E non t'ho visto... E non t'ho visto che stai arrivando. È sprit, è tutto nelle vostre ani. No, ho sbagliato io a non chiamare il posto che stai arrivando. È sprit qui a destra, eh. Ah, vabbè. E' il buco anche. Scusami. E' giorgia, cos'era? Ma ha disintegrato, scusa. Una ciappola? Minchia, ma... Eh, un'altra di fuori con lei, eh. Il ban è fuori con lei. Uno è proprio... Però tu non sei inciappolato, mi sa. Sì, uno è la trappola. È una tappa a destra. Due sono fuori, eh. Con il ban e un'altra è fuori. Ma la C4 perché è lì? Occhio, che... È la buttata a terra, Gio. Occhio, il buco del muro. Occhio, il buco del muro, anche. È niente. Ah! Come no? È un troppo, Gio, Gio, è un troppo. Azzighidighi. Un rocco è del 2014, ragazzi. La C4 era meglio strada nel 4 di Gio. Per poterla riprende. Faccio una palombella e... Va bene, Gio. Sbada bim e sbada bam. Redby. Un rocco è del 2014, se non ero. Slam Dunk dovrebbe essere... Anni 80-90. 2014, così vicino, eh. Mi pare di sì. 13-90, adesso. Slam Dunk. Slam Dunk sì, secondo me pure. O fine anni 80 o... Inizio anni 90. E io lo guardavo su 7 gold. Io da piccolo pensavo che GTO e Slam Dunk erano dello stesso... Perché facevano le facce seguide. Sì, facevano parte dello stesso... Diverso, questo... No, Kuroko, non è... È finito nel 2014, Kuroko. È come se Slam Dunk fosse uno spin-off di GTO. Può essere, non è su un altro nuovo, eh. Kuroko è finito nel 2014, è finito. Non può essere nel 2014, su Kuroko, ma se non si compra finito. No, ma finito nel 2014 mi sa tanto strano. Mi fido, eh, per carità. Ci conta che non... Sicuramente non è inizio nel 2014, ci sono subito. No, no, mi ricordavo così perché avevo letto nel manga la data 2014, quindi mi ha... È la stampa. Sì, sì, è possibile su Kuroko. Ma poi magari è la stampa anche, non so se ha preso quella... Io non l'ho preso... Io quando l'ho comprato... L'ho preso un po' dopo che era già... Ah, è la prima volta loro. Bisogna vedere se hai stampo o no, bisogna vedere anche. Ah, 2008-2014, vedi? Ah, in Italia era il 2013, perché? Ok. Allora, ok, per quello. Sì, perché nel 2013 erano scelto fuori di violenza. Sì, no, è semplicemente in Italia era il 2013. Perché ho blitz? Ho! Ma avevo preso io, vabbè. Eh, vabbè Marco, che ci vuoi fare? Mi devi fare così, cioè, mi scende. Eh, potrebbe essere Angel Voice, Colotec. Mi pare si chiamasse Angel Voice. L'anime lì che dici. Sì, è un anime di calcio era. Angel Voice o Angel qualcosa era. No, in Atomileven è con i poteri, ragazzi, credo... Sì, sì, è calcio, ma con i poteri. Credo fosse Angel Voice quello che dice lui. Che è carino, ma molto lungo anche Angel Voice. Molto, molto lungo. Molto, molto lungo. Vai Morelli, fammi fare più più. Eh, non so l'andare io. Mi passo un duoro dall'alto, vado. E' da me. Eh, come... Dove si rompe qui, Moro? Eh... Dira un toucher che non so com'è. Marco Madiglia, pizzeria. Coprimi, coprimi. Vieni qua, Morelli. Grazie, siete molto gentili oggi. Mortarci, the people. Qua non si è rotto niente. Ok. Romualdo sui miei colpioni. Mi fa male. I miei strelloni mi hanno sparato. Sono nella stanza grande, amici. Ok, l'ho ucciso. Cioè, mi hanno ucciso spando a cazzo? Mi ha beccato, indietro? No, mi hanno ucciso. Attività nemica, neutralizzate la minaccia. Va beh, ma sì, certo, vabbè, ma sì, la vaffa. Dai, 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 certo. Porca puttana. Si, Mark è quello, vedi. Se è uscito in pre-fire, avrei detto, ah, sì, più o meno sarà là. E mi ha shuttato, ma porca cazzo. Gianmario 19, grazie mille. Grazie, Gianmario. La bella questa. Ma ragazzi, sai che un sacco di gente è andata a guardare Razed dopo che l'avevo detto in live, ma ha scritto che gli è piaciuto un sacco, sono molto contento. È bello, bravi, bravi. Mi ha fatto cagare, Marco. Non l'hai visto, finora. Ma non l'ha visto, l'hanno visto. Ma c'è l'anime su Netflix, Marco? Sì, 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 c'è l'anime. Che è molto simile al manga, quindi è perfetto. Molto simile vuol dire che non è uguale. No, è molto fedele, è chiaro. Ma che non lo guardo, Marco. E non te lo guardo. Eh, lo so, corto a poca vacca. Che sfiga anche. Perché in quel momento là, sono uscito in quel momento là, io, è uscito anche lui, mi ha shottato. Che no, c'è... Che sfiga. Cos'è che era uscito? Assassination Classroom, anche qui c'è tutto Netflix. Che merita anche quello. Perché shottaro se lo sceglio su Netflix? Io li guardo su Netflix. Perché? Assasination Classroom me lo sto guardando. Cosa vuol dire? Ma non guardatelo su Netflix che è una cosa illegale. Guardatelo su... Su Twitch sono le pubblicità che mi rompono le palle, scusami. E' tanto comodo, ma non è il doppiaggio di Netflix. A parte che i video non è illegale, Marco. Lo puoi... A parte... Sì, ma come ha detto lui sembrava finesse. A parte che io non credo ci sia in italiano. No, è vero. No, c'è anche in italiano. Ah sì, ma lo guardo in italiano. Ma comunque... Fa cagare il giapponese di merda, guarda. Comunque su Netflix puoi mettere i sottotitoli. Però io devo dire una cosa, Morelli. Devono prendere una persona nuova che fa i sottotitoli degli anime su Netflix. Guarda, i sottotitoli su Netflix. Porca p***a p***a. Ieri abbiamo guardato... Seven Deadly Sin. E' veramente devastante. E' veramente devastante. C'era una frase... No, questi qui guardano attraverso i muri. I sottotitoli dicevano... Bisogna prendere... Tipo le vite dei Sette Peccati Capitali. Vabbè, Joker, mica lo guardano per capire. E non voleva assolutamente dire quello. Voleva dire tutto il contrario. Ah, è vero, ho visto. Sì, è un'altra cosa che voleva dire. Eh, sì. Non c'è capito perché nel contesto dici, ok. Non è che lo guardano in giapponese perché capiscono il giapponese, Joker. Perché magari gli piace di più, visto che... Il giapponese fa cagare. Eh, no. No, è oggettivo. Ah, non è vero. Marco, allora... Non può piacere o non piacere? No, no. Non può piacere, Marco. Ah, sì, ma non c'era neanche... Non c'erano niente. Come ho fatto a spammettare il supporto che non c'era la porta? Mi ho fatto. Adesso voglio vedere, voglio. Ah, certo. Ah, certo. Posso capire uno che sa il giapponese. C'è uno nel tuo culo, Georgia? Niente. Se metti qua... Non so cosa c'hanno, guarda. Non è possibile. No, ma di tanti altri... Cioè, di tanti... Di tanti anime a me da fastidio quel particolare doppiatore giapponese, magari. Ma in generale li guardo anche io prevalentemente in giapponese. Ma perché... O non mi piace il doppiaggio in inglese o in italiano, cioè non mi piace proprio, non mi trovo bene. Magari mi danno anche un'ottima interpretazione delle... Poi in tanti altri sono esagerati, tipo Black Clover, non puoi finire una puntata che ti fa male la testa, perché urla dall'inizio e alla fine mi dà fastidio. Però è in quel caso specifico. Ma non è vero che danno l'imprunte che vogliono dare in giapponese. Non sono buoni i giapponesi. Inutile che... Ci perdono, in effetti, insomma è un po'... Insomma c'è un po' ragione di non offre. Però vabbè, anche in italiano è qualcosa tipo One Piece, visto in italiano, io la maggior parte all'inizio è nomato fastidio, perché abbiamo un buon doppiaggio in Italia comunque. Eh, ma quella è una tua cosa, cioè ci sta anche quello che dice Moro, ma è una cosa personale. Io so di tanta gente che le cose in giapponese le vuole guardare in giapponese, le cose in inglese le vuole guardare in inglese. Guarda, preferisco capire cosa dicono, anche se doppiati male. Cacchio, un doppiato male è veramente difficile ormai. Sì, è davvero difficile ormai. Perché comunque finora non ho mai visto brutti. Non ho picchiato in un'anime da piccolo, sì. Non ho visto brutti del piagge finora, comunque io gli anni. Vabbè, sì, però... Brutti, brutti no. Non sono mai brutti che dici... Ah, che schifo! Mi cavo le vrecchie! Facciamoci qualche cazzatina che dici, vabbè, potremmo farlo meglio. Però i sottotitoli devono sistemare su Netflix, non è possibile. Vabbè, amici del cacchio! Buonanotte e buone botte! Non so cosa mangiare, ma ci vediamo stasera con Goal with your friends, con i nostri amici subscribers. Che bello. Ciao belli! Ciao belli! Ciao! Ciao! Infatti non è vero che adesso è il mondo... Non è vero che il mondo è in Italia e in Francia, comunque. No, io non chiudo la live adesso, voglio dirle questa cosa qua. Il doppiaggio non è solo un taglio in Francia. L'abbiamo già salutato, Espri! No! L'abbiamo già salutato! Ciao, Espri, buonanotte! No, morevi! User left your channel! No! User left your channel!